Presentazione ufficiale questa mattina al circolo canottiere Ortigia dei due nuovi acquisti, due assi della pallannuoto, il portiere Stefano Tempesti provenienti dalla Prorecco e il siracusano Valentino Gallo. Il palmaresse di Stefano Tempesti parla da solo, 14 scudetti, 5 Champions League, 5 Supercoppe, 13 Coppe Italia, una Coppa di Lega Adriatica, tutti conquistati con il Prorecco, squadra con cui ha militato per 16 anni. A questi trofei si aggiunge la Coppa delle Coppe, vinta nel 2001 con i colori della Florenza. 16 anni dopo, una iperbole piena e costellata davvero di successi, si ritorna a casa? Sì, sono felice di questa scelta che ho fatto, come ho detto poco anzi, mi sono reso conto solo ieri, ho realizzato veramente ieri di questa scelta che ho fatto e mi sono emozionato. Sono veramente contento di far parte di nuovo dell'Ortigia, di essere tornato a casa e finalmente, dopo tre anni, mi sveglio in un posto dove sono contento di stare e questa è la cosa più importante, anche soprattutto a livello di testa, mi fa piacere. Tu parlavi di nuovi stimoli, nuove possibilità di confrontarti anche con un altro ambiente che conosci peraltro bene, però con altre aspettative. Sì, io penso che quando si cambia la squadra comunque ci sono sempre nuovi stimoli che ti aiutano a fare meglio, a dare qualcosa in più. Se quegli stimoli ce li hai anche nella società dove sei nato, nella città dove sei nato, penso che gli stimoli si raddoppiano, quindi non vedrò di iniziare. Ora aspettiamo settembre perché poi adesso sto facendo il campionato a Malta, a settembre tornerò, non vedrò di iniziare con l'Ortigia. Cosa spinge un portiere a 40 anni, insomma, che ha avuto davvero tutto da questo sport, a scommettersi nuovo in una nuova piazza? Allora, innanzitutto lo spinge il fatto che sia una piazza bellissima, l'ho dimostrato ieri sera, la città di Siracusa mi ha accolto in una maniera eccezionale. Mi sono emozionato, è stata una serata bellissima, una presentazione come mai avevo fatto in vita mia e questo ti fa ben sperare, ti fa capire di aver fatto la scelta giusta. E poi c'era anche la voglia di rimettersi in gioco perché più passano gli anni e più hai bisogno di nuovi stimoli, di nuovi obiettivi, di un qualcosa che ti faccia anche sognare. Ortigia era una delle mete che durante tutti questi anni dicevi sempre, caspita, come sarebbe bello giocare qua, non c'erano però i presupposti per farlo. Adesso questi presupposti ci sono, la società l'ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto, con l'impegno che ha messo nel creare un qualcosa di bellissimo come la cittadella, come la struttura che prima non era assolutamente così e quindi tutti questi elementi insieme alla squadra che si sta venendo a creare, ai ragazzi e all'impegno che ci stanno mettendo, fanno sì che uno possa scegliere di venire a giocare in una realtà come questa. Grazie a tutti.